Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo risolvere il seguente esercizio. Riduci a forma normale i seguenti monomi e indicane poi il coefficiente e la parte letterale. Cominciamo dal primo, 2 terzi a al cubo per meno 3ab. Ricordiamo che si dice che un monomio ridotto a forma normale, quando si presenta come il prodotto di un unico fattore numerico, detto coefficiente del monomio, per potenze letterali con basi diverse ed esponente intero positivo, che costituiscono la parte letterale del monomio. Quindi nel nostro caso, per scrivere il monomio 2 terzi a al cubo per meno 3ab in forma normale, dobbiamo scriverlo come prodotto di un unico fattore numerico, per potenze letterali con basi diverse ed esponente intero positivo. Quindi scriveremo che 2 terzi a al cubo per meno 3ab è uguale al prodotto tra 2 terzi a meno 3ab in forma normale, scriveremo tutto questo per Quindi il nostro monomio è uguale a 2 terzi per meno 3. Possiamo semplificare il 3 che moltiplichiamo con il 3 al denominatore ed otteniamo meno 2, quindi meno 2 per a al cubo per a Scriviamolo, quindi a al cubo per a Possiamo anche metterlo tra parentesi, giusto per chiedere meglio qual è l'ordine dei fattori, Tutto questo ancora per b Il nostro monomio è quindi uguale a meno 2 Per a al cubo per a è uguale ad a elevato alla 3 più 1 Ancora per b Quindi Ancora tutto questo è uguale a meno 2 Per a alla quarta Per b Se adesso scriviamo questo monomio senza indicare il simbolo di moltiplicazione esso avrà la seguente forma meno 2 a alla quarta Si presenta quindi in forma normale in quanto risulta essere il prodotto di un unico fattore numerico in questo caso meno 2 per potenze letterali con basi diverse ed esponente intero positivo quindi a alla quarta per b Meno 2 è il coefficiente del monomio a alla quarta per b è la parte letterale del monomio Andiamo avanti Riduciamo a forma normale il seguente monomio x fratto 3 per meno 2x per meno 6 x al quadrato y Possiamo scriverlo nel seguente modo Un terzo Infatti x terzi è il prodotto di un terzo e x quindi un terzo per meno 2 per meno 6 Abbiamo considerato infatti i coefficienti numerici un terzo meno 2 e meno 6 Tutto questo deve essere moltiplicato per x per x per x al quadrato per y Quindi per quanto riguarda la parte letterale abbiamo considerato questo prodotto x per x per x al quadrato per y Il risultato è un monomio che ha per coefficiente il prodotto tra un terzo meno 2 e meno 6 Questo prodotto è banalmente uguale a 4 Infatti possiamo semplificare il 3 al denominatore di un terzo è il fattore 6 6 diviso 3 è uguale a 2 Quindi meno 2 per meno 2 è uguale a 4 Per quanto riguarda invece la parte letterale abbiamo il prodotto x per x per x al quadrato quindi per x elevato alla 1 che è l'esponente del primo fattore più visto che abbiamo un per 1 che è l'esponente del secondo fattore più visto che abbiamo ancora per 2 che è l'esponente del terzo fattore Tutto questo ancora per y Quindi per quanto riguarda dalla parte letterale abbiamo considerato il prodotto x per x per x al quadrato per y Il risultato è il monomio 4 per x elevato alla 1 più 1 più 2 quindi elevato alla quarta per y che è riscritto senza il simbolo di moltiplicazione diventa 4 x alla quarta y questo è un monomio scritto in forma normale in quanto si presenta come il prodotto di un unico fattore numerico in questo caso quindi 4 che è detto coefficiente del monomio per potenze letterali con basi diverse ed esponente intero positivo che costituiscono la parte letterale del monomio in questo caso x elevato alla quarta per y andiamo ancora avanti scriviamo in forma normale del seguente monomio più due quinti a b per meno 3 a b tutto questo è uguale al prodotto tra più due quinti e meno 3 per il prodotto tra a b e a b quindi scriviamolo in maniera opportuna risulta più due quinti per meno 3 per a b per a b tutto questo è ancora uguale a più due quinti per meno 3 questa moltiplicazione è molto semplice il risultato è meno 6 quinti infatti più per meno è meno 3 per 2 6 e il 5 al denominatore resta com'è tutto questo deve essere moltiplicato per a b per a b quindi per a per a per b per b procediamo adesso esattamente come nei casi precedenti il nostro monomio è meno 6 quinti per a per a cioè per a al quadrato per b per b per b al quadrato se lo riscriviamo senza i simboli di moltiplicazione il risultato è meno 6 quinti a al quadrato b al quadrato anche in questo caso quindi abbiamo ridotto il monomio in forma normale infatti esso si presenta come il prodotto di un unico fattore numerico meno 6 quinti per potenze letterali con basi diverse ed esponente intero positivo quindi a al quadrato per b al quadrato meno 6 quinti è il coefficiente del monomio a al quadrato per b al quadrato è la parte letterale del monomio bene ragazzi per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro sperando che sia stata chiara vi ringrazio per averla seguita in questo caso è un po' più forte